Parliamo del bramo, dell'incontro a Roma, c'è preoccupazione da parte del sindacato? Una preoccupazione che è nata il giorno dopo la presentazione del concordato. Abbiamo sempre detto che il peggior nemico era il tempo, oggi ne è la controprova. Le possibilità sono tre, una meno probabile che ormai quella di una vendita della società, ora gli scenari sono due, o quelli di una gestione straordinaria o di un fallimento. In entrambi i casi esistono i meccanismi e i processi per tutelare lo Stato occupazionale. Oggi su quattro commesse due stanno già andando sul mercato, una terza è già orientata a fare la stessa cosa, rimarrebbe solo team, quindi a questo punto capire qual è la strada che intende prendere il Tribunale senza perdere troppo tempo, perché altrimenti poi solge il dubbio se i commissari l'allungano per altre ragioni. Ma bisogna essere adesso tempestivi nel mese di settembre, capire qual è la decisione del Tribunale e organizzarsi per mantenere in vita le commesse, quindi i committenti e di conseguenza lo Stato occupazionale. Qual è stata la posizione del Ministero dello Sviluppo Economico? Beh, una posizione anche se un po' lenta, tardiva di disponibilità, fa davvero specie, preoccupa tantissima, la cronica è confermata assenza della Regione Calabria, era presente la Regione Lazio, la Regione Sicilia, perché sono queste quelle interessate, della Regione Calabria non c'era neanche un funzionario. e ancora oggi può rappresentare un elemento importante perché ha alcuni strumenti che nella salvaguardia dei livelli occupazionali possono avere una funzione importante. Sono 3.500 i lavoratori dell'Abramo? Sì, 3.500 lavoratori dove la maggior parte sono in Calabria, paradossalmente la Regione è meno sensibile al problema, un problema che continua a rimanere quasi del tutto calabrese perché ancora oggi una strategia, nonostante le organizzazioni sindacali abbiano delineate quali sono i percorsi per trasferire i lavoratori, mantenere lo Stato occupazionale, quindi applicare le clausole sociali, purtroppo questi ragionamenti ancora non fanno parte di una strategia condivisa.